E' con me Elisa Giobbi, la scrittrice Fiorentina, le do il benvenuto, buongiorno e bentrovata. E' qui per presentare il suo ultimo romanzo, La Rete, si intitola Lei è Fiorentina, il libro è ambientato a Firenze. Lo possiamo anche vedere, fra l'altro è un tema di attualità perché parla di una donna che ama in qualche modo irretire i suoi amanti ma poi vive anche delle brutte esperienze attraverso la rete. Perché lei è venuta questa idea e perché l'ha voluta sviluppare? Sì, innanzitutto dico che è il mio primo romanzo in realtà, perché io finora mi sono occupata di pubblicazioni riguardanti la musica però ho iniziato a scrivere questo romanzo ed è stata un'esperienza molto bella. Diciamo che appunto si basa, come hai anticipato, su questo senso di irretire i corteggiatori di questo personaggio che è un po' borderline, una donna molto particolare fuori dalle righe e in realtà però il nucleo centrale poi della storia si basa anche su appunto le vicende di questa donna che è stalkerizzata da uno dei suoi corteggiatori e poi insomma il finale sarà molto particolare insomma, per cui sì è una storia diciamo cruda ambientata a Firenze tra la fine degli anni 70 e i giorni nostri e le protagoniste sono due amiche che in qualche modo hanno dei percorsi paralleli ma che diciamo hanno personalità molto diverse, molto lontane tra di loro. Grazie dunque ad Elisa Giobbi